Perfetto quando siete a pulire Lo vedete anche voi come situazione come situazione che ci sono ancora sempre la roba da levare ma mi hanno fermato qualcuno del comune mi ha detto basta che è molto pericoloso Quindi non potete più andare avanti? Se no andavo avanti a levare ancora altra plastica, anziapatti Per quanto è che sei qua stato? Soprano verso le 10 e mezzo E voi la dovete fermare? Sì dobbiamo fermarmi perché hanno chiamato anche la Bromare qualcuno per venire a levare tutta questa roba qui Questa è stata una bella iniziativa Sì anche coraggio Soprano anche coraggio perché anche stare in mezzo proprio all'isodotto di legni non è stata facile Allora ho cominciato da solo poi vedendo qualcuno che era un po' in difficoltà sono arrivati altri due ragazzi tre a darmi una mano e le ringrazio questi ragazzi che sono stati bravissimi Grazie a te 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 Grazie a te